Vuoi sapere perché conviene prenotare prima le tue vacanze con Apulio Hotel? Te lo spiego subito. Prenota prima e avrai al prezzo della pensione completa il soft all inclusive. Il soft all inclusive include i soft drink al bar della struttura durante tutta la giornata quindi tranquillamente nei nostri bar potrei prendere coca cola limonata tè aranciata e tutto quello che ti aggrada di più al prezzo della pensione completa. Avrai la garanzia vacanza sicura inclusa nel prezzo. La garanzia vacanza sicura ti permette di cancellare fino a quattro giorni prima dell'arrivo riavendo indietro totalmente la capalla. Così puoi bloccare la camera fin da subito senza aver paura di perdere neanche un centesimo. Sì sì hai capito bene tu ci chiami e senza dirci nessuna giustificazione il giorno dopo ricevi il rimborso e siamo sempre amici tranquillo. Inoltre le tessere club per te e i tuoi bambini saranno gratis. Sì hai sentito bene gratis. Avrai diritto a tutti i servizi della struttura come l'animazione, il mini club, l'iscrizione ai tornei, il servizio spiaggia, tutto gratis. Ad esempio potrai scegliere la camera nella posizione che più ti è comoda vicino alla piscina per la felicità dei tuoi bambini ed avrai la massima attenzione in fase di prenotazione da parte dei nostri assistenti vacanza puri hotel per accontentare tutte le tue esigenze. Un altro vantaggio sarà quello di avere ombrelloni e lettini vicino al mare. La prima fila te la regaliamo noi. Che aspetti? Chiedi ora un preventivo e non rischi niente perché chi prenota ora ha la garanzia prezzo più basso. Cos'è la garanzia prezzo più basso? Te lo dico subito. Se trovi un prezzo più basso con gli stessi servizi dopo aver prenotato ti rimborsiamo la differenza. Sì, hai sentito bene. Allora te lo ripeto. Se trovi un prezzo più basso con gli stessi servizi dopo aver prenotato ti rimborsiamo la differenza. Ti faccio un esempio. Hai prenotato la vacanza ad esempio con questa offerta prenota prima con tutti i servizi elencati a 1200 euro. Per un qualunque motivo trovi poi un last minute sulla nostra struttura a 1000 euro con gli stessi servizi. Vieni da noi, ce lo segnali e ti rimborsiamo la differenza, i 200 euro. Ho una brutta notizia per te. Questa offerta è limitata e la prima cosa che verrà tolta è l'ombrellone in prima fila perché, puoi capire bene, sono limitati e quindi il prezzo salirà. Considera che il totale tra bonus e sconti è di più di 500 euro. Non aspettare, chiedi subito un preventivo.